Maria Laura Annibali L'altra, altra, metà del cielo Saggi di Antonella Montano, Monica Cristina Storini, Susanna Lollini Un documentario che raccoglie testimonianze di donne omosessuali che si sono dichiarate tali e che vivono apertamente la propria diversità Attraverso questo lungometraggio che ha girato il mondo con successo L'autrice aggiunge una voce autorevole per l'affermazione dei diritti delle persone omosessuali Alcune di queste donne ricoprono ruoli pubblici battendosi per cancellare la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali Altre conducono le proprie piccole battaglie sul posto di lavoro e nella vita di tutti i giorni poiché l'identità sessuale non è solo un fatto fisico ma anche culturale Il documentario si propone di mostrare attraverso l'intreccio tra vita affettiva, lavorativa e politica la positiva presenza delle lesbiche nella società Vuole essere anche un invito a fuggire dalle discriminazioni e analizzare con spirito critico tutti i luoghi comuni e gli stereotipi socio-culturali sull'omosessualità per scardinarli e mostrarne l'infondatezza Il DVD è corredato da un volume che racchiude tre importanti saggi sull'argomento